La fede e l'apostolato che hanno portato avanti non ha alimentato in loro desideri mondani e smarne di potere, ma al contrario. La canonizzazione ha avuto luogo a Roma durante la seconda sessione dell'Assemblea del Sinodo sulla sinodalità. I 14 nuovi santi comprendono otto frati francescani e tre laici maroniti che sono venerati come i martiri di Damasco. Furono uccisi in odio alla fede a Damasco in Siria nella notte tra il 9 e 10 luglio 1860. L'evento ebbe luogo durante un periodo di violenza settaria. Gli autori erano membri dei Drusi, un gruppo etnico religioso in conflitto con i cristiani e altri gruppi della regione in quel periodo. Le milizie Druse entrarono nel convento francescano di Damasco e massacrarono i frati, Manuel Ruiz e compagni insieme a tre laici che erano fratelli biologici, Francesco Abdelmoti e Raffaele Masabchi. Rifiutandosi di rinunciare alla fede e di convertirsi all'Islam, gli undici furono brutalmente uccisi, alcuni decapitati, altri pugnalati o bastonati a morte. Una delle due donne canonizzate il 20 ottobre è Elena Guerra, conosciuta come apostola dello Spirito Santo. Amica di Papa Leone XIII e maestra di Santa Gemma Galgani, Elena nacque nel 1835 ed è nota per i suoi scritti spirituali e la sua devozione allo Spirito Santo. Anche la canadese Marie-Leonie Paradis, fondatrice delle piccole sorelle della Sacra Famiglia, è stata proclamata santa. Nata Virginie Allaudy nel 1840 nel Quebec, fondò il suo istituto per collaborare e sostenere le religiose della Santa Croce nel lavoro educativo nel New Brunswick. Il sacerdote italiano Giuseppe Allamano, anche egli canonizzato, ha fondato due congregazioni religiose, i missionari della Consolata per gli uomini e le suore missionari della Consolata per le donne.